I mercati emergenti hanno un impatto significativo sull'economia mondiale per diversi motivi. 1. Crescita economica. I mercati emergenti sono spesso caratterizzati da una rapida crescita economica. Questo contribuisce all'aumento del PIL mondiale e all'espansione dei mercati globali. 2. Consumo. I mercati emergenti rappresentano una grande base di consumatori. L'aumento del reddito disponibile nelle economie emergenti porta a una maggiore spesa dei consumatori, il che stimola la domanda globale e favorisce l'espansione delle aziende multinazionali. 3. Investimenti. I mercati emergenti offrono opportunità di investimento interessanti per gli investitori internazionali. Questi investimenti possono contribuire alla crescita economica dei paesi emergenti e favorire la creazione di posti di lavoro. 4. Risorse naturali. Molti mercati emergenti sono ricchi di risorse naturali, come petrolio, gas, metalli preziosi, ecc. L'estrazione e l'esportazione di queste risorse contribuiscono all'offerta globale e influenzano i prezzi a livello mondiale. 5. Produzione manifatturiera. Molti mercati emergenti sono diventati importanti abmanifatturieri. 6. L'outsourcing delle attività manifatturiere verso questi paesi permette alle aziende di ridurre i costi di produzione e di essere più competitive a livello globale. Tuttavia, l'influenza dei mercati emergenti sull'economia mondiale può anche comportare rischi. La volatilità dei mercati finanziari, le fluttuazioni valutarie, le politiche economiche instabili e i problemi strutturali possono creare incertezza e impatti negativi sull'economia globale. Inoltre, la dipendenza da mercati emergenti per risorse naturali o manifatturiere può rendere gli altri paesi vulnerabili a cambiamenti politici o economici in questi paesi.